Lei è viola o testa di alcol? Testa di alcol naturalmente, importantissimo, è una bellissima campagna, i tifosi viola come sempre appoggiano le cose fatte per bene e questa va sicuramente appoggiata. Lei beve ogni tanto? Certamente che sì, però quando si può è quando abbiamo la testa sempre sulle spalle. Naturalmente bisogna essere prevenuti anche nel bere, perché oltre a fare male a se stessi si provoca anche danni agli altri, quindi do un consiglio a tutti di bere naturalmente il giusto, nelle dosi giuste, non approfittarne perché andiamo incontro a delle conseguenze non piacevoli, sia per chi beve che anche per coloro che non bevono. Ho solo acqua, sono un ragazzo tranquillo. Bevi con la testa quindi? Sì. L'entusiasmo deve venire da dentro con l'alcol. Chi beve con la testa è importante, però chi beve senza testa non si può fare altro. I tifosi viola non bevono. Ne assicuro? Penso proprio di sì. Non bevono, sono estremi. Un bicchieretto di birra lo bevo. Però beve consapevolmente. Consapevolmente, indubbiamente, sì sì sì. Tifosi viola, fate come me, bevete con la testa.